Vi invito il 18 gennaio a vedere Il Vegetale, che tra l'altro è il mio compleanno, quindi fatemi questo regalo. Ciao! Io sono molto contento del risultato. Rivedermi al cinema, cioè vedermi 20 metri per 10, mi dà molto fastidio perché sono una persona molto in imbarazzo a riguardarmi. L'altro giorno ho visto in sala il film e ho avuto dei problemi con me stesso, però sono contento perché le persone mi stanno dicendo che sono molto soddisfatta del mio lavoro, quindi sono molto contento di questa esperienza. Dicevi oggi in conferenza che sei tu che hai scelto il tuo personaggio, si chiama Fabio Rovazzi. Ma questo solo per una mia para personale, nel senso che era una mia paranoia. Mi faceva troppo attore professionista avere un altro nome, mentre così ero più tranquillo sul set a sentire il mio nome. Io interpreto un personaggio nella mia vita privata, insomma, in realtà mangio un sacco, sembra che, insomma, sembro un po' anoressico io, però in realtà mangio tanto ma similo poco perché dormo poco, però mangio da di tutto, sono più che onnivoro.